Poteva finire in tragedia la serata di una famiglia rumena residente a San Pieri, frazione di Scicli, quando un giovane 27enne è scoppiato un petardo in mano. Gran paura, dato che lo scoppio ha raggiunto anche l'occhio del giovane. Il fatto si è verificato in una pidazione rurale dove risiede una famiglia di rumeni che stava festeggiando l'arrivo del nuovo anno. Allo scoccare della mezzanotte, in festeggiamenti, è il consueto lancio dei botti di fine anno con tutta la famiglia. Uno di questi gli è però scoppiato letteralmente tra le mani. Alcune schegge l'hanno raggiunto all'occhio sinistro. Tanta la paura fra i presenti che hanno subito soccorso il ferito, sanguinante al volto e all'occhio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Modica, che si trovavano in servizio di controllo e di perlustrazione sul territorio. E un'ambulanza del 118 che ha subito prelevato la vittima e lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica. Qui, dopo i primi accertamenti, il rumeno è stato trasferito nella divisione di oculistica all'ospedale civile di Ragusa. I militari dell'arma hanno anche avviato le indagini per accertare dove la famiglia di Romeni avesse acquistato i petardi e se questi avessero delle caratteristiche di opportuna sicurezza.